Mister Cirillo, una vittoria importante per voi al termine di una partita dominata dall'inizio fino al gol del Barano. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi l'abbiamo preparata bene in settimana perché veniamo da un pareggio con l'Ottaviano dove l'unica azione che abbiamo avuto domenica scorsa abbiamo subito gol. Oggi i ragazzi erano determinati e meritano questa vittoria. Siamo percorrendo una strada dove ci porterà, sicuramente stiamo montando ai play-off per arrivare quando più in alto è possibile. È una squadra giovane e quello che stiamo facendo secondo me quest'anno è qualcosa di eccezionale. Qualcosa di eccezionale, parlavamo anche col Presidente, ci sarebbe questo sogno dei play-off che per una società nata nel 2018 arrivare al primo anno di promozione a giocarsi i play-off è un ottimo risultato. Sì, sicuramente, la società crede molto nei ragazzi, quindi abbiamo fatto un'ottima scelta insieme al direttore e ci stanno ripagando alla grande. Adesso abbiamo le ultime cinque partite, cerchiamo di fare quanti più punti è possibile, recuperare qualcuno ancora che è infortunato e poi ce l'andiamo a giocare con tutti. Grazie. Grazie. Grazie.